Tirre e camion potrebbero dover ancora attendere prima di riattraversare il tratto dell'Ai45 tra Val Savignone e Canili nel comune di Pieve Santo Stefano. Potrebbe infatti slittare la riapertura ai mezzi pesanti del viadotto Puleto sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio per rischio collasso, una riapertura che era stata annunciata nel giro di un mese dall'avvio del cantiere dallo stesso ministro Danilo Toninelli nel corso della sua visita in Val Tiberina. La procura di Arezzo ha infatti chiesto ad ANAS di non alterare i luoghi in attesa della perizia che si è resa necessaria dopo i 5 avvisi di garanzia inviati ad altrettanti funzionari e dirigenti del compartimento ANAS di Firenze per omessa manutenzione. La procura ha chiesto di essere informata sui lavori che saranno svolti lungo il tratto dell'Ai45 interessato al fine di non pregiudicare lo stato della struttura. A preoccupare erano stati principalmente i bagioli del viadotto molto deteriorati, proprio sulle loro condizioni si era infatti prevalentemente basata l'ordinanza di sequestro. I lavori adesso potrebbero così subire una battuta d'arresto necessaria però in vista della perizia. Spetterà poi al GIP del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli decidere se sarà svolta come un accertamento tecnico irripetibile o come incidente probatorio come hanno chiesto gli indagati e che in caso di processo avrebbe valore di prova.